Uno dei più importanti, se non il più importante evento mai accaduto in provincia, perlomeno con riferimento agli arti visive, in questo caso la scultura. A 130 anni dalla sua nascita e a 40 dalla morte, Giorgio De Chirico viene celebrato ad Arezzo con una mostra ospitata nell'atrio d'onore del palazzo della provincia di Arezzo. Una mostra che mette in luce il suo lavoro meno noto, la scultura. Più che altro una parte non abbastanza valutata, perché è la parte ultima della produzione di Giorgio De Chirico, la cosiddetta neometafisica, che va dalla fine degli anni 40 alla morte, quindi al 78, e qui viene celebrata nei 130 anni dalla nascita e dai 40 dalla morte, nella suggestiva sede di Palazzo della provincia, nell'atrio d'onore per la precisione, che è diventato, grazie a un allestimento attento, veramente suggestivo, oltre ogni aspettativa direi. L'esposizione racchiude una decina di opere e sarà visitabile fino al prossimo 4 marzo ed è stata promossa dall'Associazione Culturale Arezzo Arts Nova. Non è certamente esagerato dire che De Chirico è stato, insieme ai futuristi, con la sua arte metafisica, il promotore dell'italianità e dell'arte occidentale.